Spostate un attimo per favore Spostate due ore e l'ammetto Chi ve lo fa ancora quelli? Non capito Ma io non lo so Fate passare, dovete far passare Dovete far passare Lo capite ma non si è capito Arrivederci ministro, grazie ancora Grazie Sono una partita Organizzata per gli studenti della Scuola Superiore di Catania E i giornalisti No, 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 no Scusate, no, scusi Scusate, no, scusi Si interrompa Si interrompa perché deve parlare il ministro Lei ha parlato molto più di chiunque altro E no, lei ha chiuso La parola gliela tolgo io Anche perché lei non può consentirsi di dire Si fanno una tour Prenda atto Non si preoccupi Prenda atto Prenda atto Lei ha parlato abbondantemente Almeno il doppio del tempo in cui hanno parlato i suoi colleghi Non si fanno tour propagandistici Negli atenei Questo è un incontro tra il ministro e gli studenti Quindi non era previsto alcun contraddittorio Chi non gradisce il format può anche non partecipare Grazie 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 Grazie